Il contenuto di questo incontro mi stimola e mi appassiona da sempre, da sempre perché insieme a una serie di partner importanti abbiamo dato il via ad un progetto che si chiama Logistic Digital Community, un progetto che nasce proprio dalla volontà di valorizzare il capitale umano in termini di consapevolezza di quella che sarà la transizione digitale. Una tematica che è davvero importante è una tematica sulla quale sia il mondo delle imprese, sia il mondo dei rappresentanti e dei lavoratori devono comunque fare un focus particolare. Perché? Perché il nostro mondo sta cambiando, quando parlo del nostro mondo nel contesto qui presente mi riferisco al mondo della logistica, dei trasporti, anche dello shipping. Le merci, come non mai, oggi sono un esempio di cosa voglia dire la digitalizzazione innestata sul mondo della supply chain, della logistica. E questo fa riflettere perché lo strumento che abbiamo a disposizione, che non dobbiamo inventare, che esiste già, che è quello che è dato dalla possibilità di gestire i dati aggregati, ci permette chiaramente di avere grosse potenzialità. Potenzialità che fanno sì che il mondo della digitalizzazione, della gestione del big data si innesti all'interno dei programmi di marketing aziendale e diventi proprio una leva competitiva per il marketing aziendale. Però noi siamo di fronte ad un momento storico che ha delle particolarità e anche delle criticità. Nel senso che abbiamo una popolazione di lavoratori che non è mediamente giovane, una popolazione di lavoratori che deve comunque cavalcare il cambiamento. E questo non è facile, non è facile perché essere digitali non vuol dire utilizzare lo smartphone, non vuol dire utilizzare il computer, ma vuol dire pensare in modo digitale. E per pensare in modo digitale vuol dire fare un salto di paradigme, ma questo rientra in una logica educativa e non in una logica formativa. Quindi è una sfida veramente davvero importante che passa attraverso il capitale umano, ma che dobbiamo cogliere. La Logistic Digital Community ad esempio nasce proprio con questo obiettivo, quello di valorizzare il capitale umano, aiutarlo a comprendere quelle che sono le tematiche legate alla digitalizzazione, quindi alla gestione del big data, il digital twin, tutta la parte legata all'IoT, all'automazione. ma anche permettere alle imprese di raccontare o di creare e raccontare degli use case. Ed è un incontro tra i parter tecnici, hanno aderito ad esempio il Politecnico di Torino, il D.E.C.E.L.C.E.L.I. dell'Università di Genova, ha aderito Start 4.0 che è uno degli 800 di competenze in Italia, Rina, il Cetena per la parte del Digital Twin, ha aderito Liguria Digitale, ha aderito Free2X, tutta una serie di realtà che oggi hanno interesse a dare un loro contributo per aiutare questo settore che è strategico per il paese, perché il settore della logistica è strategico per il nostro paese, è il settore che ci permetterà di innestare, come dicevamo prima, il marketing attraverso la gestione del big data all'interno delle imprese. e la digitalizzazione applicata al trasporto delle merci ci permette appunto di implementare il marketing extraterritoriale, ci permetterà di aumentare l'export e ci permetterà quindi di aumentare il PIL del nostro paese. Quindi abbiamo bisogno di partner importanti, perché molto spesso noi parliamo di contributi per la digitalizzazione, ma i contributi sono importanti nella misura in cui ci permettono di svolgere delle attività formative che siano davvero efficaci, efficaci vuol dire che siano finalizzati l'obiettivo e non è banale, perché altrimenti si rischia di utilizzare tante belle risorse, creare un debito per le generazioni future, sto parlando dei fondi PNRR, dei fondi strutturali, di tutta una serie di fondi, ad esempio il fondo nuove competenze, che possono essere messi a disposizione delle imprese, quindi dei lavoratori, però vanno fatte con una logica chiaramente di efficacia. In questa digital community i partner tecnici hanno proprio l'obiettivo di aiutare imprese e lavoratori a capire meglio come gestire la transizione digitale e non solo dal punto di vista tecnico, non solo dal punto di vista tecnologico, ma anche dal punto di vista legale, del punto di vista etico, perché oggi utilizzare un nuovo strumento apre tutta una serie di riflessioni che prima non facevamo. Entrando appunto nella tematica del convegno odierno, è proprio quello della gestione dei dati che i lavoratori possono produrre attraverso tutta una serie di sistemi di monitoraggio leciti che chiaramente possono attraverso gli opportuni accordi essere applicati ai lavoratori, ma come questi dati debbano e sia giusto che vengano utilizzati. Innanzitutto per andare a individuare degli indicatori di performance è necessario di avere una visione di insieme di tutto quello che riguarda il processo della supply chain che permetta di valutare veramente se questi indicatori di performance sono corretti oppure no. Perché pensare di applicare al lavoratore degli indicatori di performance senza far sì che tutto il mondo, che tutta la filiera della logistica sia inserita in un processo di digitalizzazione sistemico è comunque rischioso ed è anche un po' anacronistico. In realtà non mancano gli strumenti perché gli strumenti esistono già, ad esempio mi riferisco al mondo del trasporto delle merci, la dematerializzazione documentale non necessita l'invenzione di uno strumento. Oggi noi abbiamo già una blockchain che basta decidere di utilizzarla ed è comunque un modo per rendere immediatamente dematerializzati i documenti che sottendono il trasporto delle merci in una logica di efficientamento dell'intero processo. Questo basta decidere di farlo. chiaro va fatto nelle logiche di equilibrio di tutti i settori che rappresentano il know-how tecnico che sottende i documenti che fanno viaggiare le merci e che i documenti servono appunto per prevenire frodi, per prevenire rischi, ma soprattutto per documentare che certi adempimenti sono stati fatti per garantire il cliente e per garantire il fornitore. Ma questo è un discorso diverso che non c'entra nulla con la materializzazione del documento, questo è un qualcosa che c'entra con la conoscenza tecnica del consulente che conosce la norma e che è in grado di certificare che quel trasporto e che quella merce adempiano alle norme che sottendono il trasporto sia dal punto di vista del contratto sia dal punto di vista di tutte quelle che sono le norme nazionali e internazionali e di rispetto della sicurezza o del trasporto di merci pericolose. Quindi non è tanto lo strumento digitale che c'è ma le modalità di arrivo all'utilizzo dello strumento digitale perché chi certifica l'utilizzo, il documento chiaramente lo può fare anche attraverso una chiave digitale. Questo non vuol dire che dematerializzare vada a diminuire quello che può essere l'efficacia di chi invece deve certificare che determinati edempimenti siano stati fatti. Per quello che riguarda invece il discorso della connessione tra i vari anelli della filiera, dobbiamo farci una domanda, se abbia senso che tutto sia innestato in un'unica piattaforma, cosa abbastanza anche anacronistica perché in questo momento il tema più impellente, più urgente, più dannoso e più costoso è quello legato al cyber attack, quindi credo che è una riflessione che questa dobbiamo fare, oppure se sia più opportuno percorrere una strada che è più naturale di rapporto tra il mondo della committenza e il mondo del customer che è quello di far sì che le piattaforme di collegamento tra la merce, tra chi la produce e chi l'acquista, siano personalizzate e customizzate su ogni tipologia di merce, come è naturale che ciò avvenga e che gli scambi di comunicazione tra i vari anelli della filiera avvengano ad esempio attraverso un protocollo condiviso. E anche qui noi non dobbiamo inventare nulla, perché un protocollo condiviso basta decidere di utilizzarlo, ma a volte sento spesso parlare di efficientamento dei porti, di aumento del nastro operativo dei porti, al di là di tutte quelle che possono essere le legittime aspettative e riconoscimenti da parte di tutti i soggetti che potrebbero accettare di aderire a iniziative di questo tipo. Oggi la prima cosa da fare è capire che se noi vogliamo efficientare un porto non possiamo pensare che la comunicazione digitale venga solo tra il porto e il mondo della logistica e dei trasporti, perché se la logistica è attiva dalle 6 del mattino io la vedo dura fare funzionare un porto H24. Oggi queste sembrano riflessioni banali eppure oggi le tematiche sul tavolo sono queste. Quindi gli anelli della filiera è probabile che abbia un senso che comunicano tra di loro attraverso un protocollo condiviso, non un'unica piattaforma, ma perché? Perché ogni tipologia di merce ha le proprie caratteristiche, la propria piattaforma. E quindi vedete che modalità per far comunicare gli anelli della filiera ci sono già, possibilità di materializzare i documenti ci sono già, possibilità di monitorare quelle che sono le attività dei lavoratori esistono già, è chiaro che tutto deve essere visto in una logica sistemica, perché l'utilizzo dei big data che è molto legato alla statistica è facilmente interpretabile. E allora prima di entrare in tematiche di questo tipo bisogna innanzitutto capire come valutare le performance di filiera, come innestare il monitoraggio di quelle che sono le performance dei lavoratori, ma poi è necessario che le parti siano tutte ben rappresentate e che tutte le cose si facciano a piccoli passi sperimentando e non innamorandosi delle proprie teorie, come una logica popperiana del termine, lo scienziato che si innamora della propria teoria e cerca di renderla valida non fa un servigio alla veridicità. Oggi noi dobbiamo fare tutto per confutare le nostre teorie e quando queste teorie fino a quando rimangono valide vuol dire che vanno bene, ma se smettiamo di cercarne la non validità è chiaro che rischiamo di mettere insieme un sistema distorto. E allora siccome è un mondo nuovo ed è un mondo che chiaramente è ancora da costruire in maniera digitale, valutare in maniera digitale un mondo che ha ancora da costruire in maniera digitale è una cosa che richiede una notevole responsabilità e per poterlo fare bisogna veramente andare a definire bene il perimetro, andare a creare un dialogo sereno tra i vari anelli della ferriera e le varie rappresentanze tra il mondo delle imprese e il mondo dei lavoratori, ma soprattutto farlo in una logica di sperimentazione perché ogni tipologia di trasporto merce ha delle sue particolarità, spesso si fa tanta confusione tra la logistica e il trasporto ma hanno ambiti di definizione diversi. Oggi ancora la logistica viene confusa con il magazzino da molti, ma la logistica oggi è la gestione del dato, la logistica oggi è lo strumento per aumentare il marketing aziendale, è lo strumento per permettere di far crescere il nostro paese. però per poterlo fare bisogna comprenderlo, bisogna formarsi, soprattutto bisogna formare persone che oggi non nascono con una mentalità digitale, perché poi la realtà dei fatti che dobbiamo guardare è questa, quale popolazione dobbiamo rendere più adatta a lavorare in maniera digitale e poi sicuramente ha anche senso rivedere tutte quelle che sono le performance del mondo del lavoro, gli aspetti retributivi, gli aspetti premiali, c'è una logica anche di welfare aziendale, che la digitalizzazione e la gestione del dato oggi aprono l'opportunità anche di differenziare, però questo va fatto comunque all'interno delle regole, all'interno delle leggi, perché le leggi oggi ci mettono il confine tra ciò che è opportuno fare e ciò che forse non lo è, perché altrimenti si rischia poi in un'accelerazione così improvvisa di avere troppo entusiasmo, ma andare anche poi oltre quelli che sono i diritti che negli anni sono stati acquisiti e che sono collegati comunque alla salute, alla sicurezza dei lavoratori, se è possibile trovare delle soluzioni che permettono anche di valorizzare il tempo libero, di aumentare il tempo libero e di valorizzare le performance del lavoratore in base anche alle diverse tipologie di lavori, perché oggi noi siamo di fronte ad un scenario che ha cambiato completamente la tipologia di lavori, quindi oggi noi abbiamo contratti lavori che fanno parte di un mondo che oggi sta cambiando, sta cambiando velocemente, quindi esistono diverse tipologie di nuovi lavori legati alla digitalizzazione, legati al digitale, legati alla logistica che non sono nemmeno contemplati. Sicuramente questi lavori possono essere retribuiti in una logica di valutazione di una performance che viene fatta attraverso il monitoraggio di un dato che è collegato al lavoratore e questo può essere anche un vantaggio in una logica proprio di integrazione tra tempo libero, lavoro, casa, spostamenti, mobilità, mi viene in mente tutta la parte legata al smart working che oggi abbiamo provato a declinare all'interno dei contratti, ma sicuramente richiede strumenti diversi per poterla approfondire meglio, ad esempio in questo caso i KPI e lo smart working potrebbero, ragionando su degli esperimenti, dei progetti, trovare delle soluzioni che siano veramente un trade union tra l'interesse del mondo dei lavoratori e quello delle imprese, quindi possibilità ce ne sono tante, ma queste possibilità le dobbiamo valutare in maniera molto serena raccontandole, sperimentandole, ritornando a provare e sicuramente adattandole a quelle che sono le diverse tipologie di lavori. Quindi questa è la riflessione che io volevo portare all'incontro di oggi perché è davvero stimolante, però la tipologia di intervento mi piace tararla su quello che può essere definito come un brainstorming, perché oggi non abbiamo una disciplina che regolamenti questi contenuti. Poi tornando sempre al monitoraggio dei dati legati al lavoratore e dei KPI, io lì ad esempio vedo una forte applicazione in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, perché tutto quello che è l'opportunità di conoscere i movimenti del lavoratore, ad esempio per chi lavora in spazi confinati, in luoghi pericolosi, viene in mente chi lavora sulle navi ad esempio, ci può aiutare in breve tempo a capire dove sono le persone e a capire cosa sta succedendo in situazioni di emergenza. Quindi noi dobbiamo guardare alla digitalizzazione anche come un'opportunità per evitare che i lavoratori si facciano male, come un'opportunità per ridurre, mettere fine alle morti nei luoghi di lavoro. Noi dobbiamo partire sempre da queste iniziative. Ad esempio la sensoristica legata al lavoratore e ai luoghi di lavoro ci permette anche di fare delle analisi predittive su quelli che sono magari i mancati incidenti e quindi laddove se si possono notare dei mancati incidenti è chiaro che non c'è posto migliore che quello per andare a attuare dei correttivi per evitare che questi incidenti si verifichino davvero. E beh, con la sensoristica e con la digitalizzazione queste cose si possono fare, ma queste cose vanno fatte un nostro dovere farle. Ad esempio, rimanendo nel settore dei trasporti, mi viene in mente tutto quello che riguarda la guida predittiva legata al rapporto uomo-macchina. Driver di mezzi pesanti, voi sapete perfettamente, meglio di me, che passa tante ore su un veicolo dove i rischi chiaramente sono evidenti, soprattutto quelli di distrarsi alla guida di un mezzo che può fare male assieme a fare male anche a tante altre persone, vista anche la dimensione, non il tonnellaggio. Ma stiamo parlando di mezzi che oggi sono sempre più collegati all'elettronica, alla telematica, alla digitalizzazione. Ad esempio esistono sistemi che permettono di monitorare il lavoratore, che ci permettono di capire se alla guida sta per avere un colpo di sonno, oppure se sta guidando in condizioni psicofisiche che non sono ottimali. Quelli sono altri esempi positivi di digitalizzazione che vanno perseguiti, perché laddove possiamo trovare soluzioni che esistono già peraltro, basta scegliere. Oggi c'è poco da inventare, basta sedersi e scegliere quali strumenti utilizzare, come farlo, scrivere le regole giuste perché chiaramente tutte le parti siano rispettate, siano rispettate chiaramente la privacy, l'integrità, la dignità delle persone e poi tutto chiaramente è percorribile. Per esempio tornando all'opportunità di monitorare i parametri dei conducenti, alla guida dei veicoli per evitare colpi di sonno, distrazioni e utilizzare l'interazione uomo-macchina per agire sui comandi del veicolo ed evitare disastri tipo quelli del colpo di sonno, quelle sono strade che dobbiamo perseguire. Lì dobbiamo far sì che le imprese possano investire in flotte, in sicurezza e le aziende che chiaramente producono veicoli possono sempre di più equipaggiarli di questi sistemi a costi sempre più standard. Poi per quanto riguarda invece la sicurezza sempre nei luoghi di lavoro, l'utilizzo dei dati digitali di nuovo ci può dare una grossa mano, ci può dare una grossa mano ad esempio in tutte le operazioni di carico e scarico della merci. Pensate che esistono ormai degli strumenti, tipo degli scanner, che permettono di ricreare con costi anche contenuti tutta quella che è la simulazione della logistica ad esempio all'interno di un hub portuale o di un terminal. E tutta questa parte che si chiama di digital twin, di gemello digitale, permette di fare delle attività che si chiamano di test before invest, di testare prima di andare a costruire quelli che sono gli hub. E lì la digitalizzazione ci aiuta a creare già degli ambienti sicuri, a creare degli ambienti ergonomici oltre che efficienti e dove la logistica chiaramente possa essere efficientata e implementata. Questo è un altro esempio positivo. Tutta la parte legata ai rischi, dello schiacciamento dovuto alla caduta delle merci, quella di nuovo attraverso la sensoristica, attraverso i sistemi RFID, attraverso il monitoraggio dei movimenti, delle merci all'interno, dei bacini portuali e degli interporti, degli hub logistici, dei magazzini, può essere davvero utile perché è molto facile capire se il lavoratore si sta avvicinando troppo a qualcosa di pericoloso o se le merci sono instabili o se stanno per cadere. I sistemi digitali permetterò anche di avvisare e di preallertare le persone. Questo è un altro esempio di buon utilizzo del dato. Tutto questo sicuramente in una logica sistemica collegato invece a quelle che sono anche gli indicatori di performance del lavoratore ci permettono a questo punto di ragionare su quelle che sono le opportunità anche di valutare le attività lavorative attraverso i dati digitali. Se visto in maniera sistemica può essere sicuramente un'opportunità. La cosa fondamentale però è anche capire che questi dati debbano essere utilizzati solo ed esclusivamente per quella che è la finalità e non diversamente. Quindi sarebbe interessante anche capire se è opportuno predisporre una banca dati generale, protetta, sulla quale chiaramente attraverso i vari centri studi poter fare delle analisi per far sì che questa nuova modalità e tipologia di approccio al lavoro, alla valutazione della performance sia un punto di inizio, chiaramente non un punto di partenza, ma debba ogni volta essere monitorata, messa in discussione, migliorata per portare quelli che possono essere i risultati sperati. Quindi questa è un po' l'analisi che oggi mi sento di fare. Sicuramente auguro di avere un buon lavoro a tutti e spero che questo lavoro sia foriero di idee che verranno raccolte e avrò estremo piacere, visto che non sono lì presente, di poterle leggere, di poterle ascoltare, perché è una tematica che va sviluppata insieme a chi da sempre difende gli interessi dei lavoratori, ma soprattutto cerca di far crescere i lavoratori. Oggi la vera sfida è quella di far sì che i lavoratori già occupati possano comunque sentirsi al proprio posto in un mondo che cambia, ma far sì anche che tanti giovani possano entrare nel mondo del lavoro e farlo chiaramente in condizioni di sicurezza, di dignità, come è stato chiaramente garantito alle generazioni che li hanno preceduti. Grazie e buon lavoro a tutti.